Signori, capitolo 7 di Uncharted dalla padella. Cominciamo con la pausa, perché sarà un capitolo che parte molto, molto, molto freneticamente, quindi meglio caricarsi prima e iniziare. Ci siamo, andiamo. Ok, munizioni infinite, questo non è una brutta cosa, questo non è una brutta cosa. Ottimo concetto, pessimo italiano. Bellissimo! Ok, tu puoi morire, ma tu non muori. Ok, invece sì, benissimo. L'importante è che non mi ammazzate me. Oh, sto bastardo! Muori così. Sì, però mentre che mi riprendo ne spuntano fuori altri 6, è un problema... ...abbastanza grosso. Vieni qua. Tra l'altro è già morto di suo. E dai! Ok, quelli di sopra li ho fatti fuori. Dov'è per dire, quelli di fuori li ho fatti sopra. Fantastico. Il mio italiano oggi proprio non ce la fa. Posso sparare? Grazie. Ah, ci sono le gippette. Venite qua, gippette, morite così. Ok, who's next? Ah, eccoli next. Sicuramente verrà la gippetta con la torretta. Ma sicuro, garantito. Ce n'è altri, se ce n'è altri... Da sti bastardi! Addirittura il burrone, no? Via, via! Certo, non vogliono sapere di prendere colpi queste, eh. Ok, invece sì. No, 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 no! Certo, la tannica di benzina lì è messa benissimo, eh. Si torna indietro. No, bellissimo. Oh, non lo sapevo! Più facile di così. Ok, con la mitraglietta. Questo. Adesso tutto ha più senso. Ok, non può funzionare sui mezzi veloci, ma sui mezzi lenti è l'unica soluzione. Fuori. Fuori te, fuori te. Maledizione. Oh no, come volano gli pneumatici. Livello assolutamente bellissimo. Pieno di adrenalina. Ok. Perfetto, pensavo ci andasse a schiantare, invece no. Fuori. Ma muori. Bene, così. Questo è culo. Questo a casa mia si chiama culo. Vabbè, ora che la jip esista... Non ci credo, funziona. È un po' assurdo. Siamo in un'altra cittadina abbandonata. Ai ai. Afferro la mia mano. Ok. Bene. Tutto a posto? Sì, sto bene. Ma tu stai sanguinando? Sì, capita in queste zone. Andiamocene di qui. Forza. Tonnazione. Cosa? Forza! Di nuovo lui, che bastardo. Ehi, Eddie. Pensavate veramente di riuscire a scappare da moi? No, no. Stavo solo facendo fare un tour alla signora. Taci. Scommetto che anche tu lavori per loro. Cosa? Pensavate di potermi fregare e di tenere tutto per voi, eh? Dallazione, questo è pazzo. Eddie, stai calmo, amico. Beh, la vostra fortuna è finita. E hai la vostra ricerca. Vai indietro. Datemi la mappa. Resisti. Va bene. D'accordo, è presto fatto. Il resisti non l'ha sentito, ovviamente. Tranquillo, Eddie. Sto solo prendendo la mappa, come hai chiesto. Ho detto ferma. Lo sono. Bene, passa qui. Beh, mi hai appena detto di non muovermi. Sembra che dovrai venire a prendertela. Dai, come... In acqua. Bellissimo. Inizia da qua il capitolo 8, sicuro. La città sommersa, appunto, ragazzi. Alla prossima.